in questo nuovo video oggi andiamo a spacchettare l'autoradio android per fiat tipo come vedete un imballo bianco leggermente danneggiato speriamo bene andiamo ad aprire il nostro autoradio ecco qui le nostre specifiche tecniche in tedesco vedete 8.0 4 giga di ram 32 di memoria hot core da 1.5 allora andiamo a tirarla fuori la risoluzione 1024x600 allora all'interno abbiamo la nostra radio trovate il link in descrizione contattate sempre prima il fornitore anche se vi contatterà lui come è successo anche con me qui abbiamo tutto accessoristica qui abbiamo il cavetto usb per salvare quello originale dell'autoradio la prolunga usb per mettere la secondaria il cavetto per la radio qui abbiamo qui abbiamo i vari attacchi dove si attacca la radio il canvas e via dicendo poi ve li farò vedere nel dettaglio nel video del montaggio una specie di istruzione poi abbiamo lo speaker per i sensori di parcheggio per chi ce li ha ovviamente l'antenna gps ho scritto antenna in italiano mi ha scritto e questo qua è il microfono andiamo a vedere nel dettaglio l'autoradio come vedete autoradio come l'originale qui abbiamo il volume la band il navigatore per far uscire il cd perché questo è il lettore cd qua abbiamo la tesserina nascosta vedete quindi potremmo anche mettere la musica qua qui abbiamo un altro spazio per la tesserina per metterci le mappe o comunque usarla come come memoria qui abbiamo gli inferrossi per un eventuale telecomando e qui il microfono che comunque dotato come avete visto anche di microfono esterno lo spazio come vi dicevo perfetto per la tipo qui abbiamo i vari attacchi dietro qua abbiamo le due usb e questo è tutto ci vediamo nel prossimo video per montarla